L'Armenia è la terra di Aik, discendente di Noè, raccolta attorno al monte Ararat di Biblica Memoria, affascinante e ricca per la sua lunga e complessa storia. È in queste terre che la Diocesi ha deciso di promuovere un pellegrinaggio in programma dal 22 al 30 agosto. Sono 71 i fedeli in partenza per una settimana di preghiera e riflessione, passando per antichi monasteri e Kmiadezin, la santa sede del capo spirituale della Chiesa Apostolica Ararat, in Armenia, laghi e paesaggi di questo antico paese che ha mantenuto la sua fedeltà al cristianesimo attraverso i secoli, pagando un prezzo molto alto alla storia. Sappiamo come il cristianesimo in Armenia, addirittura prima di Costantino nel 301, l'edito nel 313, quindi ecco, grazie a San Gregorio Illuminatore, che così ha guarito il re e da quel momento è divenuta la chiesa ufficiale dello Stato. Mi aspetto una bellissima esperienza, un'esperienza di fede, di conoscere questo popolo bellissimo e poi anche il lato culturale, tutto ciò che questa terra conserva da tantissimi millenni. Speriamo di incontrare il Nuzio in Armenia e attraverso di lui speriamo anche di incontrare il responsabile proprio della chiesa armenia, con tutta facilità e se non è possibile questo però avremo un incontro con qualche responsabile.